Vai Teresa! Donne e motori, gioie e sapori! C'è chi conta le pecore per farsi venire sonno? A me, se conto le pecore viene fame, sono fatta così! E oggi, con la mia vespa a fiori che si mimetizza nel panorama, sono a Casola Valsegno, dove esiste un giardino di piante officinali unico in Italia. Cerco la casa di Luisa, che conosce la ricetta, appunto, per lo stufato di pecora, con le patate, come lo faceva suo padre. E se i tempi di cottura saranno lunghi, avrò modo di farmi raccontare storie di fidanzamenti, corteggiamenti lunghi anche quelli, perché, come insegnano le ardore di Romagna, in amore e a tavola ci vuole tanto tempo! Vai Teresa! Perché la cucina delle mamme, se non te la sei fatta raccontare, poi non la mangi più!